Questa mattina gli studenti del liceo Benedetto Varchi di Montevarchi hanno incontrato il matematico impertinente per Giorgio Di Freddi che ha tenuto una lezione sui numeri. Ho scritto a proposito un libro che si chiama Il Museo dei Numeri in cui ho cercato di raccontare storie sui numeri più che il contenuto della matematica. Naturalmente i divulgatori hanno questo vantaggio che possono raccontare le storie e poi i poveri professori invece devono insegnare per bene le cose che vanno insegnate nel programma. Io non so se per fortuna o per sfortuna figli non ne ho miei, perlomeno non credo e quindi mi è più facile parlare da professore agli studenti, la mia compagna è una professoressa anch'essa quindi vado spesso nelle scuole. Un ottimo rapporto, forse più facile appunto non essendo genitore non avere buoni rapporti con i ragazzi. È stata sicuramente una mattinata importante quella passata dagli studenti del liceo Varchi, un'opportunità unica di conoscere un personaggio che nella sua vita ha spaziato dalla filosofia fino alla matematica. Un personaggio indubbiamente, un personaggio polivalente, talvolta spigoloso ma sicuramente uno spirito critico, libero, laico da ascoltare. Spero che in qualcuno quantomeno scatti qualche scintilla di passione, sappia sollecitare degli interessi conoscitivi che spesso per una materia come la matematica non sempre scattano.